Univega Summit 6.0 Il telaio è lega leggera, mentre la forcella è una RockShox XC30 da 100 mm, a molla precarico, controllo del ritorno e blocco remoto al manubrio. La trasmissione è Shimano, al posteriore troviamo un cambio XT a 10 velocità, all'anteriore un dragliatore a livio per guarnitura tripla e i comandi al manubrio sono sempre a livio. I freni invece sono dei Tektro Gemini con disco anteriore da 180 mm e posteriore da 160 mm. Le ruote sono Concept. Finiamo con le gomme che sono delle Schwalbe Racing Ralph da 2,25 pollici.